Un nuovo capitolo si apre sull'Isola dei Famosi, mentre un'altra figura abbandona il gioco. Pietro Fanelli ha gettato la spugna, come annunciato tramite l'account Instagram della trasmissione. La sua decisione ha causato un'interruzione nel televoto, poiché il concorrente era in nomination, dando così il via a una nuova fase di votazione tra i restanti contendenti a rischio eliminazione. Sunny Oliomari, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Carrie Gay e Joe Bastianich. La produzione ha confermato che, come di consueto, i fondi spesi per gli SMS saranno rimborsati. Il nuovo televoto chiuderà in diretta lunedì 29 aprile. Fin dall'approdo sull'Isola, Pietro Fanelli ha incanalato su di sé i riflettori. La sua natura ribelle e disincantata nei confronti delle regole del gioco lo ha reso uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Definendosi su social media come un poeta bohemian e vagabondo, ha tracciato il proprio percorso da Torino a Milano, dall'essere senza un centesimo in tasca a fare il modello per sopravvivere. Tuttavia, la sua permanenza sull'Isola è stata breve. Segni di insofferenza e tensione si erano già manifestati nei giorni precedenti, culminando nel suo rifiuto di condividere il premio ottenuto durante una missione solitaria. L'episodio ha evidenziato un conflitto di visioni sul senso del gioco e delle regole. La sua decisione di abbandonare è stata motivata dalla sensazione che il suo percorso fosse giunto al termine. Il ritiro di Fanelli segue quello di Peppe di Napoli, il pescivendolo e ristoratore napoletano, che ha lasciato l'Isola per motivi di salute. Una serie di avvenimenti che contrastano con l'auspicio iniziale di una stagione priva di ritiri e scontri. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.